Nasce Pagine Bianche Salute, un modo tutto nuovo, agevole e veloce per prendersi cura della propria persona. Italia Online presenta il portale in grado di assistere in ogni momento in tempo reale chi ha bisogno di sostenere visite mediche specialistiche dalla raccolta delle prime informazioni fino al follow up. Le migliori strutture ospedaliere a portata di mano per prenotare più di 500 prestazioni con un enorme vantaggio per i cittadini ma anche per gli ospedali. Oggi quasi il 50% dei pazienti effettua una ricerca online prima di recarsi dal medico. È un'offerta completa, un'offerta strutturata, un'offerta di qualità che riteniamo di poter fornire due elementi distintivi. Il primo è la disponibilità di una piattaforma digitale facile. Al tempo stesso siamo in grado di veicolare un numero importante di visitatori, di visitatori unici. Ecco perché una struttura sanitaria ha in dubbi vantaggi a partecipare al mondo PB Salute. Non solo visite specialistiche ma anche esami diagnostici con i migliori professionisti sempre a disposizione degli utenti. Effettuare la prenotazione significa avere la disponibilità direttamente sul proprio schermo dell'agenda, dell'agenda del medico. Posso effettuare il pagamento e posso gestire il follow up alla mia prestazione sanitaria, la visita che effetto direttamente online. Il servizio è attivo con sette cliniche a Roma e nel Lazio e nel corso dell'anno si allargerà in Lombardia fino a coprire poi il resto del paese. Questo è un portale quindi che è in grado di accompagnare il paziente in tutto il suo percorso, dalla ricerca delle prime informazioni sino all'effettuazione della visita e poi alla gestione delle fasi successive alla visita stessa.